Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video. Oggi andiamo a vedere una nuovissima decklist che, diciamo così, ci ho messo davvero tanto ma tantissimo tempo per farla perché ho dovuto sbustare tante ma tante bustine. Finalmente l'ho completata, un piccolo cambiamento forse lo vorrei fare che però non posso perché appunto mi manca ancora una carta che però, insomma, vi farò vedere tutto, vi farò vedere e vi spiegherò tutto. Allora il deck in questione è deck, l'ho chiamato Mago del Caos, non so ben, diciamo Dark Magician, insomma, se lo vogliamo chiamare in inglese. Comunque, qui semplicemente è un deck appunto incantatore basato sul Mago Nero e Mago Nero del Caos, o Mago del Caos semplicemente, no, sempre Mago Nero del Caos, che è appunto la penultima mini espansione uscita, se non l'ultima, no, mi sembra la penultima, sì, la penultima, ed è una carta molto molto forte. Allora, andiamo a vedere ovviamente il deck in generale. Allora, il deck in generale è basato proprio sul giocare questo mostro molto molto forte che ci farà riprendere sempre carte Magia dal Cimitero a fine turno. E alla fine dei conti abbiamo tutti mostri abbastanza grossi da cercare da, diciamo che dobbiamo cercare di evocare, anche, diciamo, pagando un tributo in Life Points. E questa cosa ci fa comodo per l'abilità Tira e Potenzia. L'abilità Tira e Potenzia, eccola qui, dettagli, la andiamo a vedere insieme. Può essere usata ogni volta che i tuoi Life Points diminuiscono di 2000, mostri una carta mostro nella tua mano all'avversario e tiri il dado una volta, ovviamente. Il numero del dato determina il livello di quel mostro fino alla fine del turno. Allora, perché è tanto buona questa abilità in questo deck? Prima di tutto perché grazie al Mausoleo dell'Imperatore, già solo evocare specialmente, diciamo, normalmente, con un tributo di 2000 Life Points il Mago Nero, appunto, possiamo attivare il turno dopo Tira e Potenzia. E considerate che può uscire un livello, anche, diciamo, da 1 a 4 è molto semplice, abbiamo una grande possibilità, quindi, di evocare, normalmente, un Mago del Caos o un altro Mago Nero. Quindi, diciamo, veramente, abilità che ci azzecca tantissimo. Ma se anche siamo sfortunati e ci esce il numero 6, se abbiamo Legione, Demone Giullare, grazie all'effetto lo possiamo evocare e direttamente tributare, quindi, comunque, evocare immediatamente o il Mago Nero o il Mago Nero del Caos. Questa, insomma, è la peculiarità di questo deck. Adesso andiamo, ovviamente, singolarmente, a guardare ogni carta. Abbiamo Mago Nero del Caos che si ottiene dalle bustine, 2808 stelle, carta veramente, veramente, grossa, anche un 2006 di difesa che non è assolutamente male. Abilità. Durante la end pace, se questa carta è stata evocata, normalmente o specialmente, in questo turno, poi c'è un avversario di una carta magia nel tuo cimitero, aggiungila alla tua mano. Può utilizzare l'effetto di Mago Nero del Caos una volta per turno. Se questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, dopo il calcolo dei danni, bandisci quel mostro dell'avversario. Ma quel mostro dell'avversario. Se questa carta scoperta sta per lasciare il terreno, invece, bandiscila. Ok, il fatto che lei si bandisce, diciamo, è una cosa un po' che potrebbe essere negativa. Ma, alla fine dei conti, noi non abbiamo nessun modo per andarla a riprendere dal cimitero, quindi ce ne freghiamo altamente. Ogni turno, quindi, come abbiamo visto, andiamo a recuperare una carta magia dal cimitero, cosa fortissima. E in più è un 2800, quindi carta veramente, veramente buona. Poi abbiamo, come vi dicevo, la legione demone giulare. Comunque, questo mostro incantatore che si ottiene sempre dalle bustine, e anche questo è complicato, appunto, dovete sbussare il box per ben tre volte per ottenere questa carta, e ce ne vorrà, insomma. Flame of the Tyrant, se non sbaglio, è l'espansione. E, praticamente, dice, durante la tua main pace puoi evocare tramite tributo un mostro incantatore scoperto in posizione di attacco in aggiunta alla tua evocazione normale sbarra posizionamento. Puoi guardare questo effetto una volta per turno. Se questa carta veniva andata dal terreno al cimitero, puoi aggiungere un mostro normale di tipo incantatore dal tuo deck o cimitero alla tua mano, puoi utilizzare l'effetto di questa carta una volta sola, insomma. Quindi, che cosa ci fa fare questa carta, riassumendo tutto? Come vi dicevo prima, cioè la evochiamo e direttamente ci fa tributare, cioè ci fa evocare tramite tributo un mostro di tipo incantatore, quindi tutti incantatori, perfetto. Soprattutto con l'abilità, se anche arriva al livello 6, possiamo evocare sia il mago nero, sia il mago nero del caos, ma poi, se viene distrutta, e comunque è un 1.500 di difesa, un 1.300 attacco che l'attacco fa un po' pena, ma la difesa già un pochino meglio, ci andiamo ad aggiungere il mago nero anche dal cimitero, oltre che dal deck. E per questo giochiamo il 3x del mago nero, che comunque è un 2.500, che possiamo evocare in tanti modi, ed è forte, forte, veramente forte. E quindi, legione demone giullare, essenziale il 3x. Poi, abbiamo proprio per la peculiarità di questo deck, tramite il mago nero del caos, l'abilità di prendere sempre carte, riciclare carte, dobbiamo assolutamente giocare una buona varietà di carte magia. E infatti, ho introdotto un tributo al dannato perché, se ci pensate, ogni turno, a fine turno, la riprendiamo dal cimitero, e quindi ogni turno, con tributo al dannato, ovviamente ripreso grazie al mago del caos, andiamo a spaccare e a distruggere un mostro dell'avversario. Sì, dobbiamo scartare una carta dalla mano, ma comunque ogni turno dobbiamo pescare, quindi già solo buttare la pescata e questa carta, andiamo a spaccare un mostro sul terreno dell'avversario, che può essere davvero tanta roba. Stessa cosa, nobiluomo dello sterminio, carta forte, molto molto forte, che va a spaccare carte trappole magia coperte, e in più, se becca una carta, se non sbaglio, trappola, sì, una carta magia o trappola, scusate, se era una carta trappola, entrambi ci vedete, devono rimuovere tutte le copie di quella carta dal loro deck. Quindi, se andiamo contro dei deck, ultimamente, molto che vanno a giocare molto difensivo, questa carta risulta veramente ottima, e soprattutto prenderla ogni turno, vuol dire ogni turno distruggere una carta, ed è ottimo. Noi come carta trappola giochiamo solo diritto di nascita, quindi siamo veramente tranquilli, noi non avremo nessuna conseguenza negativa con il nobiluomo. Poi giochiamo, sempre come varietà, bacca della supremazia, carta che, ovviamente, se abbiamo meno life points, ce ne fa recuperare 2.000, meno life points del nostro avversario, e anche questa carta, riprenderla ogni turno, vuol dire che ogni turno potremmo ripagare 2.000, ad esempio, tramite il mausoleo, poi il turno dopo riattivare l'abilità tira e potenzia, e ogni turno recuperare quei 2.000 life points sprecati, quindi carta veramente ottima, ci sta per forza. Altra piccola tech, molto molto carina, è Attacco Mago Nero, che dice che se controlli un Mago Nero, distruggi tutte le carte trappole e magia controllate dal tuo avversario. Considerato che il Mago Nero è all'ordine del giorno, averlo sul terreno, questa carta ci sta tantissimo, e comunque spacca tantissime carte, quindi più del nobiluomo ci sta. Però comunque il nobiluomo può essere attivato anche senza il Mago Nero sul terreno, quindi comunque ha un effetto diverso, quindi nessuno dei due è migliore, ma comunque sono buone entrambe. Poi giochiamo il controllo avversario, ovviamente carta fortissima, ah, scusatemi perché non vi ho più detto dove si trovano le carte, comunque il Mago Nero si ottiene ovviamente farmando Yugi, poi abbiamo Tributo al Danato dalle Bustine, nobiluomo dalle Bustine, mausoleo dal commerciante di carte, bacca della supremazia farmando Thea, poi abbiamo Attacco del Mago Nero, che se non sbaglio si ottiene sempre da Yugi farmando, abbiamo il controllo avversario che si ottiene farmando Seto Kaiba, carta fortissima, difensiva, allo stesso tempo ci fa prendere il controllo di un mostro avversario, e ogni turno la possiamo riprendere, poi contro il deck Cyber Angel, come al solito lo ripeto, è sempre fortissima, quindi il 2x ci sta. Poi abbiamo Regole Antiche che si ottiene livellando Mokuba, carta fortissima che dicevo che specialmente un mostro normale di livello 5 superiore da lato a mano, quindi praticamente il nostro Mago Nero verrà evocato direttamente in modo speciale, grazie a questa carta, ed è quindi una cosa veramente veramente ottima. E poi passiamo all'ultima carta che è Dedizione alla Luce e all'Oscurità, offre come Tributo un Mago Nero, e noi ne giriamo ben 3, evoca specialmente un Mago Nero del caos dalla tua mano, deck o cimidero, e questa carta è veramente forte perché essendo rapida la possiamo attivare anche in battle, la possiamo attivare anche se il nostro avversario ci attiva un effetto sul nostro Mago Nero, quindi carta veramente buona che ogni turno possiamo andare a riprendere. E poi abbiamo il 2x di diritto di nascita che praticamente questa carta, ok, anche questa scusatemi si ottiene dalle bustine, e anche diritto di nascita si ottiene dalle bustine, questa carta praticamente ci fa rievocare in posizione di attacco un Mago Nero, cioè un mostro normale dal cimidero, e quindi noi andremo a riprendere il 2.500 che è il nostro Mago Nero. Quindi come avete potuto ben vedere questo deck sì è molto molto costoso, è molto complicato perché è basato tutto su carte che si ottengono dalle bustine, e anche giocarlo vi confesso che non è assolutamente semplice, infatti ho perso già varie partite. Comunque le andiamo a provare insieme. Allora qui ho perso alcune partite, non tutte con questo deck, però ne ho perse veramente tante provando varie versioni del deck e anche di altri deck, però comunque sono arrivato fino al leggendario 1 a furia appunto di giocare e di testare i deck, quindi ancora seriamente non ci sto giocando per salire fino al grado re dei giochi, però diciamo così tra un po' penso che mi ci metterò anche perché diciamo che ormai il Natale è alle porte, quindi non è che ci sarà tutto questo tempo a fine mese di poter giocare. Ok, guardia sacra, inizierà il nostro avversario, penso che abbia un deck gladiatore bestia, sinceramente, visto l'abilità guardia sacra, e la nostra mano iniziale non è buonissima, dobbiamo essere onesti, vediamo un po', ok. Quindi contro il gladiatore bestia avere il nobiluomo è ottimo, ok perfetto, mi serviva appunto giusto il mausoleo. Bene, allora cosa posso fare? Fatemi pensare, posso iniziare proprio con il nobiluomo, ovviamente, e posso iniziare a distruggere una carta e andiamo a distruggerla. Proprio questa qui, speriamo bene. Controllo avversario, oddio, poteva andarci molto 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 meglio. Comunque, andiamo a giocare, oh ragazzi quanto sono pirla, però, 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 sono stato fortunato, diciamo così, sotto un certo punto di vista sono stato fortunato, perché aver levato il controllo avversario ha impedito lo spostamento in difesa del mio mostro, quindi, va bene. Ok, però buco trappola di chiusura qui, e vabbè. Allora, potrei, no, non posso fare più niente, così come non posso attivare questo, però se me lo scopre, possiamo attivarci poi il mago, diciamo, l'effetto di attacco mago nero, e vabbè. Lui adesso attaccherà, subirà 500 danni, e poi mi spaccherà il mostro. Suppongo che giocherà in questo modo. Ed effettivamente siamo un po' messi male. Vediamo un po'. Ah, non subisce danni, perché? Perché ha guardia sacra, giusto. Ha l'abilità guardia sacra, quindi, via il bestiari, e cosa farà entrare? Sicuramente quello per spaccarmi il mostro, eccolo qui, murmillo, eccolo qui, quindi fuori il mago nero, purtroppo. Ok. E adesso andrà ad attivare, penso, il aquari. Penso. A meno che non fa un bestiari per distruggere il masoleo. Potrebbe, non lo so, sinceramente. In questa situazione ho necessariamente bisogno di pescare un mago nero del caos, perché grazie alla mia abilità lo potrò giocare, eh, praticamente, normalmente. Ok, non è successo, è uscito il mago nero, ma va bene lo stesso. Avrei preferito il mago del caos, perché con tutte le carte magia che ho adesso nel cimitero avrei fatto davvero i buchi al nostro avversario. Mi è uscito il numero 3 e va benissimo così. Infatti, grazie a questo numero 3 io posso evocare, come vedete, normalmente il mio mago nero e posso andare a distruggere il suo bestiari. Perché? Perché il murmillo, seppure trova il modo di farlo attaccare e di non farlo distruggere, non potrà rievocare un altro murmillo per poi distruggermi il mago nero. Quindi, sinceramente, la partita sta andando molto molto bene e sono molto molto contento. Vedete, se avevo il mago del caos avrei praticamente ripreso dal cimitero il nobiluomo e sarebbe stato tutto molto molto meglio. Comunque abbiamo attacco del mago, quindi va benissimo anche così. Andiamo a spaccare la carta coperta che era un'ottima carta, come potete ben vedere, e a questo punto vado a giocarmi tutto quello che ho. Infatti, vado a settare anche il mio controllo avversario, inizio ad attaccare con il mio giullare e quindi faccio fuori il murmillo bene e vado a distruggere il mostro coperto che non so, può essere un... Ok, un altro murmillo. Perfetto. Quindi praticamente il nostro avversario ha una sola carta da poter pescare. Noi abbiamo ben due mostri veramente forti e una carta buona difensiva. Ancora una volta vi ripeto che se adesso avevo il mago nero del caos avrei, insomma, riciclato a manetta le carte nel cimitero e avrei fatto veramente male al nostro avversario. Allora, visto che... diciamo che... non so cosa può mai avere. Io gioco il giullare. Poi, non so. Allora, attacchiamo ovviamente con tutti. Iniziamo con il giullare. Penso che abbia... Ok, un windstorm. Ok, questo lo immaginavo. E purtroppo... Sì. Diciamo che io non ho assolutamente nessun problema perché se anche pesca una... un mostro io posso benissimo bloccardelo e mandardelo in difesa quindi a posto come avete potuto ben vedere anche se gioca un laquari io non ho assolutamente nessunissimo problema Ok, potevo evitare di perdere tempo quindi attivando direttamente il controllo avversario però vabbè è sempre figo farlo dopo quindi ok andiamo a distruggere il laquari cioè andiamo a spostare in difesa il laquari e poi nel prossimo turno lo andiamo a distruggere il nostro avversario praticamente si è arreso perché... Ok, non c'è bisogno di dirlo si è arreso perché sa che al prossimo turno avrebbe perso il duello mi bastava attaccare con il giullare e poi giullare più mago nero e avrei vinto l'unica modifica ragazzi come vi dicevo che avrei voluto apportare in questo deck era introdurre il 3x di mago nero del caos perché come avete potuto ben vedere è una carta talmente buona talmente utile che è sempre buona averla in mano perché poi abbiamo tantissimi modi per poterla evocare già solo grazie alla nostra abilità quindi ovviamente vorrei riuscire a trovarne il terzo che però dovrei sboostare ancora tante tante bustine quando adesso insomma mi sto concentrando già a sboostare altre bustine per altri deck quindi è tutto un po' complicato se voi avete la possibilità di avere 3 maghi del caos nel deck in cui il deck che vi ho fatto vedere andate ad introdurre il terzo mago del caos e potete togliere o il nobiluomo o attacco del mago nero un po' come vi fa più comodo diciamo che potreste togliere attacco del mago nero anche se come carta è veramente veramente buona tanto è vero che ci ha fatto tra virgolette comunque giocare e vincere bene la partita detto questo ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto spero che la decklist vi sia piaciuta così come tutte le altre e niente io vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like noi ci vediamo con il prossimo bella raga grazie a tutti